Siena città aperta, Siena città che si scopre anche per i piccoli viaggiatori che zaino in spalla proveranno a conoscere la culla del palio con eventi, itinerari, laboratori, giochi, racconti e spettacoli. Arte, enogastronomia, storie, antichi cammini come quello della francigena che si mostreranno ai baby turisti per calarli pienamente nello spirito della città. L'occasione Siena for Kids, il progetto di promozione turistica messo a punto dal comune con un calendario di iniziative che prendono il via a settembre per protrarsi fino a marzo 2017. È un percorso di progressivo avvicinamento alle bellezze della nostra terra, della Toscana partendo da Siena, dalla sua compagna, dai suoi monumenti, dai luoghi d'arte, con le sollecitazioni e con l'occhio che può per un bambino progressivamente far capire i canoni estetici, i canoni culturali i percorsi formativi che poi da grande consoliderà. Possibilità e iniziative di accompagnamento nella fattoria, nei cammini della nostra campagna, nei borghi della città di Siena. Tante iniziative che hanno una finalità educativa ma che sono un elemento di forte attrazione per i turisti e per le famiglie che costituiscono questo sì, anche un settore specifico del mercato turistico mondiale. L'apertura di Siena for Kids è in programmi prossimi 17 e 18 settembre. La fortezza Medici alle cui porte si spalancheranno in occasione dell'evento nella vecchia fattoria per immergersi nel mondo rurale. Il 30 di ottobre partirà la rassegna a piccoli passi, ogni domenica mattina alle 11 fino all'ultima domenica di marzo, una vera e propria scoperta della città sempre diversa con le guide che giocando accompagneranno i bambini in vari musei, in varie strade eccetera. E poi dal primo sabato di dicembre fino all'ultimo di febbraio il Siena Francina Kids, ovvero l'esperienza di piccoli pellegrini alla scoperta della francigena con una figura che è la balia che è affrescata all'interno anche del pellegrinaio del Santa Maria della Scala e tante altre iniziative con altri musei cittadini e soprattutto con un messaggio anche importante per i bambini appunto meno gioco elettronico più libri perché abbiamo coinvolto anche tanti editori senesi per trasmettere l'importanza di leggere ai nostri bambini.